E siamo di nuovo qui con TNA per fare un altro video e mostrarvi un'altra modalità di gioco che è quella praticamente dove 3 o 4 lottatori si sfidano senza dover ricorrere ad alcuna regola senza particolare, è un macello praticamente Sì, andiamo standard match vedi, no aspetta, è standard? No, cos'era? Ah è free for all, io cambio 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 Accortengo, ma non ti sembra troppo serio questo? Sì parecchio, è sempre simpatico, quindi lo prendo Sharkboy, più bloccati pure, quanto si può prendere sul serio un lottatore del genere? Allora devo prendere anche uno che non è serio Rai, non è serio, metti quello, ormai non è, mettiamone 4 adesso, così esce, sì c'è 4, vediamo io metto Homicide che non mi sembra neanche quello serio Metti il negro, il nero Simon, Simon, no, questo negro l'ha 3, questo qui va, quello che ci batteva sempre Stai facendo? Ce n'è una di Arena, davvero? Eh sì per forza questo è il tuo profilo Volevo andare in Giappone Eh, volevo andare in Giappone, sì No, in Messico volevo andare, dove c'è sta le galline E poi è il campo che entrano dentro Free for all Free for all Regole? Come abbiamo detto Regole non ce ne sono Non ce ne sono Ci dovrebbero essere secondo me più strumenti, sarebbe ancora più divertente C'è una varietà di strumenti incredibili, la sedia La sedia Punto La sedia E la valigia di prima, però, vabbè, quella Punto Punto Basta E le reti, le reti sono un oggetto utile Sì sì, utilissimo Non conviene mai No, sai cos'è veramente una cosa che ti dà il nervoso quando giochi? Quando stai correndo ci sono i gradini che ti fanno lo sgambetto Cioè, tu cadi perché ci vado a sbattere contro Adesso vi faccio vedere Ma era grasso, c'è il cuore Hai visto? A questo fosse più male, lo vado Come quello lì che vi ho usato l'altra volta Booker T Modelli poligonali all'altezza delle nuove generazioni Potrebbero anche girare su Xbox One a una risoluzione altissima Inizia la sfida Ai Ai Non è quel mio com'è Aspetta, guardate, guardate, guardate Ai Come vedete si tuffa Entriamo Io mi sto solo tuffare, non ho ancora fatto nulla Ai Mi marunzi Mi marunzi E là Che bello Ma allora non è così pippa come pensavo No, volevo prenderti Muori Dai, salta E non mi fa saltare Salta così vediamo la fisica del gioco Come avete visto? No, no, non farlo È sempre molto No Molto lampante Adesso lo prendo io la sedia Faccio vedere Lotta fra sedia Ma no La mia sedia Scappa Ma perché? Sono invincibile Sì, appena l'idea No Ma no Ma i miei pugni Lo attraversano Lui è ghost Stai leggendo Non puoi schierare Non puoi schierare NABABBO Ah ecco Diciamo che per vincere Come in ogni incontro Diciamo normale Si deve schierare l'avversario E far contare Fini a tre l'arbitro Dov'è l'arbitro? Ma che cosa mi sono fatto? Mi ha tirato un calcio così Ovviamente si tirano i calci di punta In questo gioco Adesso la mia spiazza di pugni Bucca ti hai già messo male Si perché si sono menati Anch'io adesso ho messo Facevamo la guerra di sedia E tu non l'hai mai C'è subito una Di mossa Porca puzza Sballa Sì sì Vedimi di mira Adesso mi prendo di mira io Guarda Adesso mi stanno facendo male Voglio te Voglio No Voglio te E lasciami Voglio te Ma che si fai dai Aia D D D D D Eh Ah B per T No no è la mossa Questa la tagliavo Bucca Aia Ma come faccio Non fare così Comunque se vuoi dopo ti faccio vedere Come hanno progettato il gioco Che c'è il video Qui c'è un Addirittura nella custodia C'è un secondo disco talmente aggiornato Adesso gioco Per aumentare l'offerta Sì sì Ho preso 7,98 euro usato Secondo me non vale Vabbè sì Vale perché Perché è un gioco trash Qua mi stanno Qua mi stanno Sta arrivando Vai salta Salta Va bene No Che sta succedendo Perché c'è ancora la barra Che bello Un bug del gioco Come se non ce la fosse Tutti contro Booker Tutti contro Booker Penso che rimarrà giù Come si fa schinare Vai B Sì sì no So come si fa schinare Ma Cosa è successo No no Booker Aia Ma perché c'è ancora la barra Dove sei tu Prova schiacciare Io sono lì In basso a sinistra Prova schiacciare Stato Vediamo se si toglie La barra No non si toglie È proprio un bug Tra l'altro Era già successo una volta Aia Random Uno Due No E la barra Rimane comunque Mi sa che dobbiamo schienare Booker T Per togliere la barra E quello anch'io E gli stava facendo la mossa Ok Lascia Ma gli stava facendo la mossa Lo schienava Io ci volevo dire Ma io c'ho voglia Il cacchio Ma no Maia Oh Il mio calcio di punta Oh Si è tolta la barra Ma Alla fine Non vinco mai È una cosa impossibile Vai Vai Basta Leo No Non c'è via di fuga Vaffan cuore Vanno fatta pure la DDT Basta Fatemi alzare Diciamo che lo spam Com'è Non c'è via di fuga Dai oh Fa parte del gioco lo spam È divertente guarda Aiuto Ma mi scappare Aiuto No Non così No qualcuno lo vada Non c'è via di fuga Volevo togliere lo schieramento io Oddio Sono rotti i valori Vieni qua No Con penetrazione di poligoni Perché? E adesso te la vedi 3 su 1 No No mi dispiace C'è Booker che mi aiuta E levati No Ma prendi lo Booker Adesso lo prendo io Aiuto No Ma che cavolo Oddio Mi dicevo mi sai che ha la mossa finale L'ho diviso Stava facendo la mossa finale Se non sbaglio Tutti e tre giù Oh Chi era qualcuno? Ma no Chi vincera? Oh Era Oh Stavo usando la cosa sbagliata Aglio Si 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 Ma no Che doveva Se faceva la mossa finale Aveva più probabilità di vincere Qua al cuore No Vai Booker Ma no Ma no Via Vai via Ecco Mi sono pure Sto Porre Che miseria Grande No Ma dai Si va bene Tutti e tre Tutti e tre Oh Giustizia è stata fatta Tutti e tre Tutti e tre Io sono stato tirato giù Da una forza Invisibile E ultraterrena Ma Calciare di punta Agli avversari È la cosa più bella Di questo gioco Toccare appena E fargli fare Un salto mortale Non apprezzo Ovviamente Io Non è durato niente Nel schienamento Era la mossa finale Ti poteva schienare Vecchietta O forse Bucati Vero Sì Tutti e tre No Io non riesco neanche a riazzarmi Ragazzi Eh No Troppo bello Ok Sono uscito Ma è possibile Che riesco a fare Sempre solo Quella vostra No Tutti e tre Non è possibile Come ha fatto È ovvio Che la legge di TNA Veramente una cosa troppo Io sono sta vostra Riesco a fare Super Salto mortale Di Rhyno Dritto E gli zedon Io con le corde Non resta a farci nulla Ok Questa volta Si Ecco 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 O Uh Booker No 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 La vostra finale Su di me No Eh si Batti ti ancora un po E invece di schierarmi Mi fa una vostra di sottomissione Giusto Beh se vuoi divertire ancora un po' Il sadico Io non lo so ovviamente sto parlando con il mio amico oddio il tiratore a testata che l'ho fatto andare giù uno due calcio di punta no e vai è mio e c'è Bukartin che ha messo male no e vince e vince il cazzo si tu hai i sogni di gloria aiuto ancora ma vaffa al cuore fa troppo ridere sto gioco no ci avevo paura che vincessi io l'ho rovesciata ok sono riuscito a liberarmi dalla presa mortale no chi ha vinto si io ha vinto Sharkboy no Sharkboy ha fatto il culo a tutti ma cosa ha fatto il culo guardatelo guardatelo si vatta ma non è valido beh è stato anche quello che ha fatto più colpi regolari più colpi regolari ma io sono quello che ha fatto più mosse di potenza che non è capace a fare colpi potenti non è capace a farli io ho fatto più mosse di potenza rovesciate e sottomissioni Homicide cos'è Homicide cioè che mosse sono ma no aspetta io non sono Homicide io ah non è una mossa ok è il nome di uno l'abbiamo capito adesso eh boh tagliamo anche finiamo anche con questo video wow nuove mosse chop mi sarebbe sta roba qui fantastico c'è lo schiaffone lo schiaffone ah ok tagliamo finiamo con il video e con questo gioco è tutto vi abbiamo dimostrato che certe kick del wrestling sono davvero trash e e boh ciao a tutti però è intramontabile si 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 ciao da SEMOZIONE è tutto ciao ciao ciao